buongiorno amici amiche juventine del canale benvenuti alla puntata di giovedì 19 vigilia di juventus monza di coppa italia ma non è di questa partita che oggi voglio parlarvi ma è soprattutto di quello che è successo fuori dal campo quello che noi tutti i tifosi finalmente ci auspicavamo e tifavamo perché questo avvenisse prima di entrare nel merito vi invito come al solito iscrivervi al canale se non lo avete già fatto lasciare un bel like se è il tutto e sarà stato di vostro gradimento allora la notizia del giorno che sappiamo benissimo è la nuova era della juventus l'insediamento del nuovo cda e l'addio chiaramente di agnelli e di pavel nebbet ora se si è già parlato tanto di questo quindi andiamo subito avanti cosa dice il nuovo cd al nuovo cd a dice esattamente che non ci sarà più nessuno che potrà parlare o fare fatti contro la juventus senza che la stessa juventus non prenda seri provvedimenti senza arroganza nel rispetto delle leggi diciamo e degli organi preposti a questo quindi subito belli precisi è già avvenuto con la trasmissione di report con il comunicato della juve ma qual è la notizia che si apprende oggi dallo stesso giornalista andrea agnelli querela ziliani di gli anni non possa su twitter fa lo spavaldo dicendo che è già stato querelato da altri ex tesserati juve ha sempre vinto quindi parla di cote iuliano e moggi eccetera poi dice adesso adesso anche agnelli e vabbè effettivamente probabilmente agnelli e tutto quello che gira intorno al mondo juventus si sarà rotto di subire difamazioni ora è chiaro che il giornalista ha chiaramente un lavoro difficile ma è anche un lavoro di responsabilità ok quindi quella tessera famosa da giornalista deve rispecchiare un certo certo rispetto per la classe giornalistica stessa ma in generale per gli utenti che ascoltano quello che viene scritto o viene detto c'è un codice deontologico che va sicuramente rispettato e molti come ziliani probabilmente ne hanno abusato agnelli che fino ad oggi è rimasto inerte da questo punto di vista ha deciso di proteggere chiaramente la propria persona e l'onorabilità del suo lavoro più che giusto visto l'eccesso secondo me l'eccesso e l'abuso ultimamente di post tweet interviste trasmissioni eccetera eccetera che si sono ripetute da diverse parti nello specifico in questo caso e ziliani niente di nuovo c'è proprio il tweet del giornalista che ne dà ufficio ufficialità della stessa scusatemi quindi ragazzi la nuova era è partita oggi sportivamente si parte con juve monza giocano i giovani finalmente chiaramente e vogliamo vedere qualcosa qualcosa di diverso qualcosa di diverso lo vogliamo vedere in campo per farci anche divertire ma soprattutto lo vogliamo vedere da chi ha le redini di questa di questa società e per la quale noi tutti i tifosi auspichiamo che venga rispettata per la storia e per l'importanza anche economica che la juve riveste nel calcio italiano perché signori sappiatelo benissimo senza la juve molti andrebbero a gambe per aria fino alla fine forza juventus